L'amore degli italiani per il mattone è un dato di fatto. Dal dopoguerra in poi la casa rappresenta il bene rifugio più agoniato ed infatti in Italia ben il 68,7% degli italiani risulta essere proprietario di casa contro il 60% del resto dell'eurozona. Ma come deve essere la casa ideale? Quali sono le più recenti novità del settore in tema di ristrutturazione, fonti rinnovabili, arredamento e progettazione? Per entrare in contatto con l'universo casa a 360 gradi a Fano ci sarà dall'11 al 12 giugno Aria, un contenitore a cielo aperto dove sono presenti elementi di cultura, ricerca ed eccellenze territoriali a disposizione di cittadini, famiglie, coppie giovani, proprietari di abitazioni e nonna. Si tratta di Aria, la casa consapevole e si tratterà di un evento in cui saranno presenti espositori riguardanti tutto il mondo della casa, quindi dal complemento d'arredo alle associazioni di categoria, alla ditta che fa costruzioni in muratura più tradizionali, a quelle che fanno costruzioni in paglia, in legno, tutto ciò che riguarda il mondo casa. Un evento rivolto anche a chi semplicemente si sta guardando intorno in vista di scelte future, ma che grazie ad Aria può entrare in contatto con i settori di interesse specifico, raggruppati in questo spazio, ma anche informarsi ed approfondire concetti nuovi grazie ai seminari e workshop organizzati. In occasione dell'evento organizzeremo delle conferenze, dei workshop, dei seminari che saranno sia durante il periodo dell'evento, quindi l'11 e il 12 giugno, ma anche durante l'anno. Cioè Aria è un progetto a 360 gradi che quindi riguarda non soltanto il periodo della fiera, dell'esposizione, ma anche poi successivamente, cioè proprio l'idea di creare un network di lungo periodo. Come prima edizione questo nuovo evento serviva un contenitore già conosciuto ed apprezzato che gli facesse da lancio. E quale miglior occasione per la prossima edizione di Sapori e Motori, che ogni anno presenta nuovi spunti di novità, come anche quest'anno? La novità sicuramente più importante è che abbiamo spostato la data e il periodo praticamente dal mese di maggio andiamo al mese di giugno, quando già le scuole sono terminate. E ci saranno anche moltissime, tantissime novità all'interno della manifestazione. Sicuramente la più importante, al quale che ci tengo di più, è la parte dei Sapori. Quest'anno ci siamo agganciati a un'organizzazione a livello nazionale che si chiama appunto Track Food Festival, dove avremo qua i migliori mezzi, appunto, perché il food sarà solo su gomma, i migliori mezzi d'Italia appunto che preparano questi cibi da strada. Grazie. 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 Grazie.